io devo mettere 2 miliari di benzina, ce l'avete voi, 2 miliari? allora la caccia il motorino? no, 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 voglio la cacciare il motorino, no, no, me la pagate voi che devo partire io ah, me li pagai? no, voi me dovete pagare 2 miliari di benzina e me la dà a Napoli non ce l'avete 2 miliari? vabbè, facciamo pure un litro, un mezzo litro allora, io ho tenuto il c***o che significa? non capisco, è italiano come costo 14? 14 miliari? 14 miliari? 15 miliari? eh? quattro è portato ehi! sentine, scusate un attimo per... scusate, sto parlando con voi, scusate no, io me la devo andare a tenere in plastica, c'è mia moglie con 60 a te ah, mi dispiace, però volevo stare parlando con voi si, cosa vuoi? io ho chiesto mezzo litro di benzina vieni tirare il motorino? vieni? 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 ma non c'è nessuno? non c'è nessuno, vieni? non c'è nessuno, vieni? non c'è nessuno, vieni? vieni, guarda questo uomo, lo tiriamo ma si! ah non è con voi? eh si si deve andare a ammazzare il martin, da forza a prendere, si! ma non possiamo andare insieme? non le faccio, si deve rinvenire la droga, senza lavoro! ma se siamo ammigazzi, scende la tavola, scende! ma la... deve apprendere, la lascia, scende! ma penso di che pensi a la tavola eh! ma la tolla- Guerre, baci, 2 o 3 uch! 9 12 puoi venire con me boller, forza eh è la ma staièmes? beh, la mia ottenzione sta a votare. Scusate, maestro, scusate, io lo spieghi a matti. Scusate, maestro, scusate, io sto qui, non mi ha dato nessuna parte. Volevo firmare qua, se mi sembra, vabbè, si già, allora, se mi sembra, no, 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 fammi non piacere. Se dice il signore che siamo fratelli, io devo fare qualche cosa, tu condividi. Il tipo dice, siamo fratelli, il signore, fratelli e sorelle, tutti, la bontà, aiutare. Sì, e dammi, e c'entrmi la lì perché sei un fratello che ho bisogno, mi vedai che sono un fratello. Io c'entrmi la lì a mua, ma siete pazzo. E tu fratelli siete allora, mi posso baciare per salutare? Non ne sapevano niente. E' un bacio, l'abbaggiatta? E' un bacio, l'abbaggiatta? Mamma mia che schifo per fare questo. No, che schifo. Scusate, no, che schifo, l'abbaggiatta? Te non lo schiaffo, te facciamo la lì. E' daremo lo schiaffo. E' daremo lo schiaffo. E' daremo lo schiaffo. Scusate, a Napoli, ho bisogno di 10 mila lire per fare un piego. Ce la vedo voi? Noi meridionali, nonostante siamo scarsi, a livello economico di soldi, ma siamo ricchi dal punto di vista umano. E io devo subito la 10 mila lire per fare un attimo la benzina a lei. Grazie. Grazie a lei. Grazie, grazie. Grazie a lei, molto gentile. E quando ci incontriamo la prossima volta, gliene do anche altri 10 mila il caffè anche. Non lo sa perché, perché mi libera le borse, me lo ha commosso veramente. Ma il cazzo, lei può che buono così. Bravissima. Ma è buono lei. Ma anche il boss è buono, è sembra una persona umana. Ma lei è bravo però, perché me lo ha dato? Perché è buono. Così è la gentilezza e l'arima delle persone umane di noi meridionali. E di noi di Cosenza e di noi di questo gli occhi. Nella Calabria. Nella Calabria. Ma io sono da Napoli, non dobbiamo fare mai. Vengo sempre dalla Calabria a Napoli, dall'Apoli ai Calabria. Perché mi dobbiamo bene, perché tutto va bene nel sud. Mi sembra strano che mi sembra più un accendo calabresa, mio paesano, che napoletano. Lo posso anche con voi. No, no, io sono mio fu di me. La telecamera a sciopere, lì c'è una telecamera nascosta. La telecamera a sciopere. Grazie a tutti